È stato firmato nei giorni scorsi l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Guglielmo Marconi di Pescara e l'Accademia Umanistica Moderna di Togliatti in Russia, che sancisce la nascita del Centro di Certificazione Linguistica della Lingua Russa. Il centro, unico in Abruzzo, testerà la conoscenza del russo secondo il sistema internazionale e sarà aperto a tutto il territorio. Il diploma finale sarà rilasciato dall'Università Statale dell'amicizia tra i popoli con sede a Mosca. Alla presenza della preside russa Tatiana Burobina e del dirigente italiano Florideo Matricciano, gli allunni dell'Istituto Marconi hanno festeggiato l'evento con grande partecipazione, mettendo alla luce la loro passione per la lingua e le culture russe recitando e cantando poesie. Il Liceo Marconi di Pescara è stato uno dei primi istituti scolastici italiani a inserire nel proprio curriculum la lingua russa già 24 anni fa. Col tempo, l'offerta formativa del Dipartimento di Lingua Russa si è arricchita di programmi culturali, stage, alternanza scuola-lavoro e scambi culturali tra docenti e studenti. A fine gennaio, un'alunna del Marconi sarà infatti ospite di una famiglia russa che vive proprio a Togliatti e seguirà i corsi formativi presso l'Accademia Russa. L'accordo delle parti prevede anche la possibilità di ottenere alla fine del percorso scolastico un doppio diploma valido per l'accesso alle università russe o italiane per gli studenti di entrambi i paesi.